Contro l'Infield, una squadra irlandese, ma ora paga naturalmente la differenza di classe con le altre formazioni che sono rimaste in lizza. E' il caso dell'Austria di Vienna che va al 4-0 con questa rete di Schattler, supportare spinta nel portiere. E' facile per l'atletica alla sinistra della Nazionale e dell'Austria di Vienna realizzare il gol. Rivediamo anche questa rete con il tiro dal limite che il portiere controlla con molta difficoltà. Avete visto che in parecchie circostanze il portiere non è riuscito a trattenere la palla o ad allontanarla di quanto bastava.